Buonasera d'Alessio Buonpasso e bentornati a Doctor Sport, puntata dedicata soprattutto alla Vigor Lamezia, cerchiamo di capire in fondo qualcosa di più legato proprio al club Vigorino, perché? Perché finalmente sono state depositate le motivazioni che tanto attendeva proprio la Vigor, motivazioni della sentenza che ha spedito la Vigor Lamezia a Serie D. Adesso i massimi dirigenti biancoverdi potranno richiedere ricorso, che come ricorderete precedentemente era stato respinto proprio in virtù dell'assenza di queste ormai diventate famosissime motivazioni. I dirigenti biancoverdi sono dovuti proprio volare d'urgenza a Roma per presentare questo ricorso, doveva essere con noi il presidente della Vigor Gianni Torcasio, che però sentiremo in via telefonica. Allora però prima di iniziare facciamo il punto in questo servizio ai dettagli proprio legati alla situazione aggiornatissima sulla Vigor. Sono state finalmente rese note le motivazioni che hanno portato la Corte d'Appello a ribaltare la sentenza di primo grado che aveva a suo tempo assolto la Vigor Lamezia nell'ambito del processo Dirty Soccer. Per i giudici, dalle intercettazioni che riguardano la partita Vigor Lamezia-Paganese, svoltasi lo scorso 12 aprile, sarebbe emerso che sia il presidente che il direttore sportivo della squadra erano coinvolti ed abbiano in primo tempo aderito alla proposta di alterare l'esito della gara, poi rinunciando per la presenza di terzi soggetti di cui non avrebbero avuto fiducia. Per loro vale anche l'imputazione di non avere denunciato agli organi federali competenti quanto stava accadendo. Per la partita del 19 aprile che vide Biancoverdi sfidarsi con il Barletta, per la Corte d'Appello le motivazioni sarebbero simili. Nella sentenza si legge testualmente che le emergenze probatorie offerte dalla Procura federale rivelerebbero inequivocabilmente non solo la conoscenza da parte dei due dirigenti lametini dell'attività illecita, possa in essere da Bellini con il mister del Barletta Corda, ma anche una loro fattiva e concreta disponibilità a consentire la realizzazione della combine. Intanto i dirigenti della Vigor sono già in partenza per Roma per presentare ricorso al CONI. Insomma queste le ultimissime novità legate proprio alla Vigor Lamezia. Dicevamo Vigor Lamezia che insieme ai suoi dirigenti ovviamente è dovuta volare d'urgenza a Roma per andare a presentare questo nuovo ricorso. In collegamento telefonico dovremmo avere il presidente del club Biancoverde, Gianni Torcasio. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi. Presidente, insomma siete già a Roma per presentare questo ricorso, alla luce insomma anche delle motivazioni tanto attese che attendevate appunto da diverso tempo. Sì, motivazioni che finalmente ieri sera sono arrivate con un bel po' di ritardo, motivazioni che stiamo cercando ancora di capire, francamente io ancora non le ho capite. Perché non le ha capite? Sicuramente ci sono, perché c'è comunque qualcosa di discordante in queste motivazioni, c'è nel senso che dicono l'opposto, che è il primo grado di giudizio. Sono un po' confusionare queste motivazioni, per cui stiamo facendo ricorso d'urgenza, penso che è un qualcosa che io in qualità di precedente debbo farlo per rispetto della mia società, ma soprattutto per rispetto di una piazza intera che non meritava questo trattamento, è giusto che si facciano tutti i tentativi possibili e immaginabili, poi arriveremo sicuramente fin dove si può arrivare. Certo, i miracoli non si possono avere, però devo essere sincero, sono molto fiduciosi in merito. Diceva, accennava insomma i pareri discordanti, i pareri discordanti diciamo in maniera anche clamorosa, tra primo e secondo grado, appunto il primo grado insomma che aveva salvato in qualche modo la Vigor Lamezia, dando soltanto 5 punti, però lasciando la Lega Pro, e poi invece l'appello insomma con la retrocessione in Serie D. Pareri davvero discordanti e se vogliamo clamorosi. Guardi, i pareri che in un primo grado ci divivano parzialmente la giudizia, seppur con 5 punti di penalizzazione, però eravamo convinti che nel secondo grado avremmo eliminato questi 5 punti di penalizzazione. Così purtroppo non è stato. Da che mondo è mondo in un secondo grado di giudizio, tendenzialmente ci va a ammorbidire la sentenza di primo grado. Fatto storico contro di noi, così non è stato. Il secondo grado si va parlando completamente il primo grado, con delle spiegazioni, credo di poco, cioè con delle supposizioni, perché se lei ci va a leggere le motivazioni, ancora ad oggi noi non crediamo che c'è una prova contro la Vigor Lamezia che abbia commesso un illecito. Però purtroppo ci troviamo in Serie B, ci troviamo in una situazione veramente anomala, una situazione da non capire che squadra preparare, perché ancora ad oggi non abbiamo nessuna squadra. Abbiamo due format di squadra pronti sulla carta, una per la Lega Pro e una per la Serie B, che ovviamente stiamo aspettando prima di mettere sotto contratto, perché lei capisce che tra Serie B e Lega Pro purtroppo sono dei giocatori completamente diversi tra loro. È chiaro, è chiaro, insomma, è davvero una situazione paradossale. Voi intanto avete riposato domenica scorsa, quando di fatto sono già iniziati i campionati sia di Lega Pro che di Serie D. C'è una partita, quella con il Gragnano, insomma, domenica prossima. Che fa la Vigor? Guardi, la Vigor allo stato attuale si deve presentare a Gragnano per discutere questa partita. Lo dico con molta franchezza che qualora ci vogliono presentare ci presenteremo come una squadra junior, sulla cosiddetta Berecchi, perché allo stato attuale la Vigor non ha giocatori sotto contratto di prima squadra. È pur vero che abbiamo chiesto, e stiamo chiedendo in tutti i modi di poterla rinviare a questa partita, perché non abbiamo squadra. È intervenuto il sindaco, ma il problema vero è che non abbiamo squadra, non abbiamo allenatore, abbiamo un giudizio che ancora ci deve giudicare, cioè che è il Coni, il collegio di valentia del Coni. A un Messina, che è la nostra controparte, è stata rinviata la partita, quindi per far condizio dovrebbe toccare anche a noi rinviarla. Per cui stiamo cercando e speriamo di poterla rinviare. Stiamo provando tutte le state possibili e immaginabili, anche perché poi c'è molta questione sulla Messina, per cui se io faccio partire la squadra, Sabato, per la trasferta di domenica, la piazza mi prea nel modo particolare, ci hanno chiuso, mi creeranno problemi, di questo non sono convinto, perché si capisce che quella è una sconfitta, cioè andare a giocare in Serie B e vuol dire accettare la Serie B, cosa che non è ad oggi i campionati di nostra competenza, i nostri campionati di competenza e la Lega Pro. Poi purtroppo, per motivi burocratici, cartaci, ci hanno portato in Serie B. Senta Presidente, ha già raggiunto la capitale? Quali sono le ultimissime, anche ascoltando i primi pareri? Tra poco ci sarà un briefing degli avvocati nostri, che abbiamo più avvocati, che stanno oggi anche del nostro avvocato Chiacchi, che è quello che inizialmente ci ha seguito, poi abbiamo un altro avvocato penalista calabrese, e anche i due studi di Roma, che stanno cercando un po' di leggere, tutti insieme le varie motivazioni, per cercare di poter presentare un ricorso adeguato. alla causa. Su cosa si baserà se possiamo chiederglielo la difesa della Vigor in questo ricorso? Si baserà semplicemente nello smontare le motivazioni, sono le motivazioni che non stanno né in cielo né in terra, non c'è una prova, noi ci danno una diretta su una partita paganese, dico la media, dove non c'è nessun giocatore coinvolto, nessun tesserato della paganese coinvolto, nessun allenatore, nessun massaggiatore, nessun racchettabatte, non c'è una telefonata che possa dire tutto questo, però ci condannano perché per supposizioni noi avremmo accettato la vittoria della paganese, quindi il 2 in questa partita, quando guarda caso quella partita, combinazione è finita X. Anche volendo voglio dire, se vogliamo parlare di combin, su un 2 la partita è finita X, la partita in campo la fanno i calciatori, gli attori sono i calciatori, senza calciatori non se ne fanno partite, questa è la decisione di capire, le partite non si fanno come si dicono, le partite non si fanno punto e basta. Va bene Presidente, noi speriamo insomma anche... Le parlo con molto rammarico, perché veramente... Apprezziamo, apprezziamo. ...di stanchezza che mi porto dietro, sono sull'olo dell'esaspirazione ora, veramente dell'esaspirazione, cioè voler rovinare una città, nel senso una prova certa, ha veramente lo scandalo. Insomma speriamo per la vigora, che arrivino notizie positive, nel frattempo la salutiamo e la ringraziamo, Presidente Torchiasi. Grazie a voi tutti, buon proligio, la saluto. Grazie ancora al Presidente della Vigor, Gianni Torcasio, ci ha raccontato insomma le ultimissime, anche da Roma, dove si trova in questo momento insieme agli avvocati, insomma per difendere soprattutto il club, il club bianco verde, che come sapete è stato sbattuto in Serie D, clamorosamente, dopo invece una prima sentenza, insomma che aveva salvato la Vigor, lasciandola in Lega Pro, nonostante gli avesse dato cinque punti di penalizzazione. Nel frattempo però si torna a giocare, la Vigor, la mezza insomma anche in attesa di capire cosa farà, se si presenterà proprio contro il Gragnano, nel frattempo si gioca, le altre squadre hanno già giocato nel primo turno domenica scorsa, questo è il punto su tutte le Calabresi, via. La sfangata alla prima con la frattese, ma è difficile che la Vigor, la mezza, possa rinviare anche l'impegno di domenica prossima in casa del Gragnano. Per la nuova regina, che si consola con ben 2600 abbonamenti già in cassa, prioritario invece riscattare la sconfitta all'esordio con la versa. Al granillo arriva la Sarnese, mentre la squadra è costretta a improvvisarsi nomade, tra Cittanove e Polistena, non riuscendo a reperire in città, una struttura idonea per gli allenamenti. Clima diverso per la Vibonese, che testa con la Juniors di Fortunato D'Amico i meccanismi in vista dell'esordio casolingo in campionato contro il Marsala. Rientreranno tre pezzi da 90 per lo scacchiere rosso-blu, Ruscio, Legretti e Castaldo, assenti per squalifica nel big match di domenica scorsa a Rende. Si guarda avanti in casa palmese, che domenica riceverà tra le mura amiche una Leonfortese che nessuno intende sottovalutare. La preparazione della squadra è ripresa a pieno regime dopo il buon derby giocato contro il Roccella, in trasferta all'esordio. Un punto che fa morale, a rientro dopo 27 anni in Serie D. Decisivo Marco Foderaro, che divene in questa fase l'uomo simbolo, generosità, spirito di abbregazione e di sacrificio, per conquistare la salvezza, o forse anche qualcosa in più. Un test probante attende anche il Rende, che si appresta a rendere visita all'ostica frattese, e per i Biancorossi sarà un'ardua impresa a riscattare la sconfitta della prima a Lorenzon, con la Vibonese anche per il Roccella. trasferta in terra campana, in quel di Agropoli, anche qui una bolgia. E allora questo è il punto su tutte le squadre calabresi di Serie D in vista del secondo turno, dopo una prima giornata al Fulmicotone. Insomma, lo sappiamo, due derby, quello vinto dalla Vibonese contro il Rende, quello invece pareggiato da due tra Roccella e Palmese. Domenica prossima invece ci saranno tre esordi casalinghi, per la stessa Vibonese, per il Reggio Calabria, abbattuto ad Aversa contro la Versa Normanna, e per la Palmese. Io direi insomma alla regia intanto di guardare il prossimo turno in Serie D e poi tra pochissimo sentiremo, dovrebbe essere già in collegamento telefonico, il collega del Quotidiano del Sud, Pasqualino Rettura. Questo è il prossimo turno e allora Agropoli-Roccella che è stata anticipata a sabato alle 15, Gragnano-Vigor in attesa di capire cosa succederà e poi Scordia-Cavesse, Frattese-Rende, Gelbisono-Duetorri, Noto-Aversa-Normanna, Palmese-Leonfortese, Reggio Calabria-Sarnese e come detto Vibonese-Marsala. E con noi Pasqualino Rettura del Quotidiano del Sud. Ciao Pasqualino. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Insomma Pasqualino, abbiamo sentito proprio poc'anzi il presidente della Vigor, Gianni Torcasio, presidente che ci ha raccontato, insomma è già a Roma, insieme agli avvocati, che cercheranno di difendere nel ricorso proprio questo club, questa città e poi insomma tu sei di La Mezzia, potrai raccontarci meglio quello che si vive in queste ore proprio lì alla Mezzia Terme. Beh, un'estate sicuramente indimenticabile, tra virgolette, anzi una primavera indimenticabile, perché di Soccer è iniziata il 19 maggio, l'operazione di Soccer, siamo arrivati a settembre, quindi uno quattro mesi veramente di un vero e proprio calvario, primavera estate, che sta vivendo la mezza sportiva, ma non solo la mezza sportiva, perché il calcio poi abbraccia anche sicuramente il sociale, quindi adesso dovremmo essere alla fine, nel senso che ci sarà quest'ultimo passaggio, il ricorso appunto al collegio di garanzia dello sport del CONI, affinché metta la parola fine per quanto riguarda il processo della giustizia sportiva. Certo, le motivazioni della sentenza che sono state della sentenza della Corte Federale d'Appello che ha disposto alla retrocessione in D della Vigor la mezza, senza punti di penalizzazione, perché ho notato che si è fatto un po' di confusione vedendo alcune classifiche anche sui giornali, che in serie D la Vigor ci è scritto meno 5, la Vigor in serie D non ha punti di penalizzazione, è stata fatta confusione con la sentenza di primo grado che manteneva la Vigor in lega però con 5 punti di penalizzazione, invece in serie D la Vigor in mezza non ha punti di penalizzazione, quindi era questo anche per precisare a diversi colleghi che magari con il comunicato ufficiale che è stato fatto dalla Lega Nazionale di Lettanti è stata fatta un po' di confusione con la sentenza di primo grado che appunto dava i 5 punti di penalizzazione ma in lega pro e non in serie D. Detto questo dicevo adesso chiaramente la società che idea ti sei fatta come? Che idea ti sei fatta tu su questa situazione? su questa situazione è che sicuramente c'è un danno soprattutto tecnico perché una mezza domenica dovrà giocare a Gragnano ma non c'è una squadra c'è solo la formazione Berretti Juniores quindi con ogni probabilità si andrà a giocare a Gragnano con la Berretti Sì ce l'ha confermato ce l'ha confermato lo stesso presidente Torcasi ha detto se dobbiamo andare andremo chiaro dirlo con la Juniores con la Berretti e quindi già un danno è stato fatto perché non è stato fatto un ritiro non c'è come detto l'alleatore Erra non c'è è andato via perché con questa situazione sicuramente era difficile restare i giocatori che erano stati presi dopo la sentenza sono andati tutti via quindi c'è già un danno da questo punto di vista già la prima giornata la mezza non ha giocato il 6 settembre quindi voglio dire da questo punto di vista c'è un grosso danno per la città sportiva e non solo ripeto quindi adesso è chiaro che leggendo un po' le motivazioni della sentenza della Corte Federal di Appello mi pare che è una cosa che ancora è tutta da come dire definire quindi a mio avviso da quello che ho potuto leggere si può tentare di fare quest'ultimo disperato ricorso al colore sarà sicuramente fatto e io credo che ci sono i margini affinché questo possa essere ributtato e senti tu cosa pensi nel senso proprio per entrare nello specifico tu pensi davvero che la Vigor possa rientrare in Lega Pro e se sì come cioè in sovrannumero come rientrebbe il Messina avrebbe di nuovo rispedito in Serie B c'è da capire questo perché non si capisce bene poi se la Vigor va a giocare a Gragnano il Messina gioca giorno 16 in campionato mi pare con il Benevento quindi bisognerebbe capire poi ma fermo restando che ancora c'è un giudizio pendente non si sa nemmeno quando verrà fissata l'udienza a collegio di garanzia del CONI perché credo che i tempi non siano proprio strettissimi quindi credo che si devono costituire le parti notifiche in Messina si costituirà sicuramente quindi passerà ancora del tempo qui a mio avviso probabilmente la federazione poteva aspettare far definire tutti questi processi per iniziare i campionati ma io non credo che c'erano dei problemi se i campionati fossero iniziati che dico il 20 settembre non capisco tutta questa difficoltà quindi bisognava aspettare però è chiaro che tutto ancora deve essere deciso perché ricordiamoci che le sentenze non riguardano solo la vigora ma ci sono anche il teramo e la torres quindi sicuramente siamo al paradosso però non si capisce bene cosa può succedere dopo nel caso in cui queste sentenze dovessero essere ribaltate può succedere di tutto è sicuramente anche un po' di fretta troppa fretta avuto la federazione a far partire i campionati bisognava aspettare tutti i gradi di giudizio questa è una mia idea insomma è un po' quello che abbiamo pensato tutti noi addetti ai lavori grazie Pasqualino buon lavoro buon lavoro buon lavoro grazie ringraziamo ancora Pasqualino Rettura del Quotidiano del Sud ci ha raccontato insomma il punto di vista anche di chi come lui vive alla mezzia terma e un po' sente i sentimenti della tifoseria c'è però un'altra questione in Calabria legata anche qui alla Lega Pro che negli ultimi giorni nelle ultime ore è proprio scoppiata le ultimissime dichiarazioni del presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino che ha detto a giugno vado via poi rientrando oggi spiegando insomma anche meglio quello che voleva dire sentite saggio Sergio Abramo ci mette una toppa le contestazioni non sono una novità spiega da un lato il sindaco di Catanzaro che si mostra sensibile ai tifosi però non è giusto dimenticare lo sforzo finanziario prodotto in questi anni dal presidente Cosentino media Abramo dopo l'annuncio shock del patron delle Aquile che appena 24 ore prima aveva detto lascio invitando altri a farsi avanti annunciando che fine stagione onorando tutti gli impegni avrebbe consegnato la squadra al primo inquilino di Palazzo De Nobili la posizione espressa da Abramo non fa rientrare Cosentino dei suoi propositi che in premessa rispondendo ribadisce quanto gli abbia fatto male la contestazione subita dai tifosi e la sua determinazione a lasciare d'altro canto lo stesso Cosentino pone come condizione essenziale proprio per l'amore che nutre per il Catanzaro la gestione del timone a uno o più imprenditori che possano traghettare le Aquile nei nidi sicuri che il blasone della storia e delle maglie giallorosse meritano insomma per dirla con Cosentino gente in grado di garantire un percorso all'altezza del blasone e delle aspettative della piazza e allora questo è il servizio che ci ha raccontato un po' quello che si è vissuto nelle ultimissime ore a Catanzaro in collegamento telefonico la collega Rosita mercatante di Catanzaro Sport24.it Rosita insomma Cosentino lascia o non lascia ciao buonasera a tutti sì le sue parole sono state abbastanza decise sembra irremovibile ormai la decisione di andare via dopo quanto è accaduto a differenza di tutte le altre volte questa volta il presidente Cosentino ha anche aspettato di parlare con la stampa quindi sembra una decisione abbastanza ponderata insomma sembra davvero ponderata e i tifosi però lo hanno continuano anche a dargli il contro è successo domenica scorsa dopo la sconfitta contro la Caserta ha un po' di ragione lui sì la sua decisione è venuta proprio dopo questa contestazione a fine gara con la Casertana e anche se in questi giorni dopo la discussione della notizia dobbiamo anche dire che sul nostro portale sono arrivate tantissime lettere da parti di tifosi che continuano invece a sostenere Cosentino e a ricordare quello che il presidente ha fatto per il Catanzaro quindi diciamo che i tifosi sono forse divisi in due parti c'è chi continua a ricordare l'operato del presidente Cosentino e della famiglia Cosentino c'è chi invece non ha apprezzato la sua scelta societaria soprattutto quella di quest'anno c'è da ricordare anche insomma che Giuseppe Cosentino ha fatto rinascere il calcio al Catanzaro dopo un sanguinario fallimento ha detto si è parlato anche di cifre 20 milioni di euro in questi anni sì 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 esatto ha risollevato una situazione che veramente non aveva altra via d'uscita e questo bisogna riconoscerlo come bisogna riconoscerli comunque l'impegno che ha sempre dimostrato e la coerenza che ha dimostrato anche nel fatto che quest'anno aveva già detto che non avrebbe fatto una squadra a mazza campionato non aveva dato illusioni o non aveva gestato fumo negli occhi dei tifosi ma aveva già detto che sarebbe andato con i piedi di piombo e che si sarebbe fatto tutto in completa tranquillità quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe apprezzare che è un discorso Rosita che ci può anche stare dopo un campionato come quello dell'anno scorso in cui davvero si è speso tantissimo si sono cambiate due squadre praticamente tra il girone d'andata e il girone di ritorno era un discorso che ci poteva anche stare insomma sì esatto lui ha sempre detto che avrebbe fatto tesoro degli errori del passato e lo ha fatto perché dopo dopo aver speso tanto dopo aver investito molto per prendere dei grandi nomi e fare una squadra molto competitiva forse una delle più forti della Lega Pro si è dovuto ricredere perché non ha ottenuto quello che sperava i risultati in campo non sono arrivati e quindi c'è stata una vera e propria rivoluzione a gennaio del mercato invernale come sappiamo tutti poi si è lottato solo per la salvezza è cambiato l'obiettivo per cui da lì sono nati poi questi problemi con la tifoseria dobbiamo anche dirlo che è una tifoseria che non si accontenta è una tifoseria molto particolare un po' come esigente esigente è dimostrato domenica di non avere molta patienza sono bastati 90 minuti di gioco per far traboccare il malumore che già si respirava e la squadra come sta vivendo queste ore diciamo che comunque la squadra continua a lavorare gli allenamenti sono tutti i giorni sono in corso si continua appunto ad ascoltare le direttive di mister Durso che come sappiamo ha fatto la sua scelta la sua decisione di schierare in campo la squadra con un 3-5-2 anche questo opinabile però è la sua idea e quindi continua a portarla avanti una squadra che comunque sta anche crescendo di numero comunque viene puntellata ancora oggi con un nuovo arrivo insomma tra qualche ore dovrebbe arrivare Davide Moi si appende solo l'ufficialità per quanto riguarda un altro difensore Moi che dovrebbe essere appunto un elemento fondamentale per concludere la rosa così come aveva annunciato anche lo stesso termine Donnarumma il direttore sport generale era necessario l'arrivo di un difensore quindi si è pensato a lui attualmente in città sta facendo le visite mediche si attende soltanto la firma del contratto intanto si gioca domenica a Foggia una gara che è stata intanto prima posticipata alle 20.30 poi rientrata alle 17.30 tu che squadra ti aspetti? Beh mi aspetto una squadra sicuramente più decisa rispetto a quella che abbiamo visto domenica al Ceravolo proprio perché lo stesso mister Durso in conferenza ha detto che si farà insomma si partirà dalle debolezze dimostrate in campo domenica quindi si lavorerà si sta lavorando su quello per cui mi aspetto una squadra più preparata soprattutto spero che ci sarà spazio per questi nuovi elementi che stanno facendo la differenza lo stesso Taddei che negli ultimi 25 minuti di gioco ha dimostrato insomma di dare un valore in più alla squadra quindi speriamo speriamo in questo Taddei che ha sfiorato anche un grandissimo gol che magari avrebbe anche pareggiato la partita grazie Rosita grazie a voi buon proseguimento Ringraziamo ancora Rosita Mercatante di CatanzaroSport24.it ci ha raccontato le ultimissime ovviamente legate al Catanzaro un altro fatto curioso che ha riguardato lo sport calabrese che non riguarda il calcio ma riguarda il basket si giocava ieri un amichevole quella tra la Viola Reggio Calabria e il Barcellona Pozzo di Gotto una gara che però non si è giocata scoprite perché Maltempo 100 Viola e Barcellona 19 ironicamente è questo il punteggio dell'amichevole di ieri al Palamazetto dove la pioggia che filtrava dal soffitto ha costretto le due squadre a sospendere l'incontro amichevole programmato per la serata se sugli spalti la situazione della copertura è critica non così sul parquet le poche gocce di pioggia cadute sul terreno di gioco però hanno imposto la sospensione precauzionale del match sarebbe stato un rischio troppo grave per i giocatori ancora in fase di recupero quando manca poco meno di un mese all'inizio della serie a due i cinque minuti di partita che sono stati disputati per la cronaca si sono chiusi col punteggio di 12 a 7 per il nero arancio a proposito di recupero della forma l'attenzione si è spostata sulle condizioni fisiche della viola soprattutto quelle messe in dubbio in settimana dello statunitense Craig Breckins il coach della viola Gianni Benedetto risponde così sulla forma fisica del gigante americano ha necessità di recuperare questa è una caratteristica che molti giocatori che vengono negli Stati Uniti hanno quindi il prolungato riposo il prolungato riposo estivo sicuramente lo ha fatto sicuramente rilassare con il punto di vista non c'è dubbio adesso deve recuperare la giusta condizione la giusta forma e questo ci necessita di gran lavoro prima di tagliare un giocatore devi vederlo all'opera non l'abbiamo neanche visto quindi voglio dire adesso lo stiamo allenando come tutti i giocatori non solo breakings ma diciamo un po' tutti sono soggetti al giudizio dell'allenatore e insomma volevamo raccontarvi anche le ultimissime legate al basket legate soprattutto alla Viola a Reggio Calabria troppa pioggia per la sfida per l'amichevole contro il Barcellone insomma una gara rinviata a data destinarsi aspettando ovviamente il campionato e poi abbiamo sentito anche il tecnico Nero Arancio parlare della condizione fisica di qualche suo giocatore questa era l'ultima notizia però ultimissima legata alla Serie D squalificati per tre gare Manolo Moscero del Cosenza e per due turni invece Rosselli del Reggio Calabria entrambi erano stati espulsi proprio nella prima giornata di campionato bene così abbiamo ultimato il nostro tempo a disposizione grazie per averci preferito Doctor Sport ovviamente tornerà puntuale domani alle 19.30 buona serata buon passo buon passo